A Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, ci troviamo su una terrazza di un penthouse che si trova nella zona Beglia Vista, nell'avvenida Nacaona della capitale. Come potete vedere c'è questo appartamento, ha una bellissima vista sul Mar dei Caraibi e sul Parque Mirador, che è un po' il polmone della capitale. E quindi noi abbiamo scelto questa postazione per darvi, perché voi possiate avere un'idea del panorama che si può godere da alcune delle case che si trovano qui a Santo Domingo. Anche da quest'altra parte, non solo la vista sul Mar dei Caraibi, ma come potete vedere da quest'altra parte c'è un'amplia vista su tutta la capitale, molto suggestiva, molto particolare, che speriamo vi possa in qualche modo piacere. Oggi è il 25 dicembre, quindi è Natale, si è festeggiato ieri sera qui nella Repubblica Dominicana. La tradizione vuole che il giorno di oggi si passi comunque fuori casa, insieme ai parenti, agli amici. Noi approfitteremo della calma che c'è oggi qui in capitale per quanto riguarda il traffico, per fare un giro, per farvi dare un'occhiata almeno a questa parte della capitale, che è il settore degli abisti, il miglior sito, il distretto nazionale, perché voi possiate avere un'idea di quello che si può trovare qui in Repubblica Dominicana anche dal punto di vista immobiliare. Se siete d'accordo, incominciamo a fare un giro. Ci vediamo dopo. Ci troviamo sempre in una zona adiacente a quella di Biglia Vista, Nello Cassicascos, è sempre una zona molto tranquilla. Come vedete oggi, 25 dicembre, non c'è in giro quasi nessuno, proprio anzi nessuno. È interessante per esempio sapere che il piano 13 di questa torre costa 2 milioni di dollari, giusto per avere un'idea dei prezzi. Come vedete oggi, come vedete oggi, questo parco è stato, c'è da dire, che è stato rivalutato dal sindaco Roberto, del partito del Pellede, che ha fatto un lavoro meraviglioso, perché prima non era lo stesso, adesso è molto migliorato. Sono state fatte delle strutture per bambini, tipo giochi, altalene, questi divertimenti qui per famiglie. In più il prato è sempre ben curato, insomma, complimenti al sindaco Roberto. In più il prato è sempre ben curato, insomma,